Non avevo mai visto una roba, se sì, mia signora, mai, 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 ho detto questa è la fine del mondo. Una scena apocalittica è quella che si sono trovati a vivere i residenti dell'Alta Padovana nella serata di ieri, pochi minuti, dopo le 21 e 30. Quello che sembrava solo un forte temporale si è trasformato in pochi istanti in un vero e proprio tornado, capace di scoperchiare tetti e sradicare piante e sparare come fossero proiettili, pezzi di lamiere e legno a distanza di centinaia di metri. Carmignano di Brenta e Fontaniva i comuni più colpiti da un vortice di vento misto a grandine che solo un miracolo ha evitato provocasse vittime o feriti. Prima è arrivato un po' di grandine e poi è arrivata questa tromba d'aria che è mai durata circa 40 secondi, un minuto neanche, e ha fatto questi danni insomma. È saltato su tutto, non si vedeva nulla, gli alberi che cadevano, finestre che saltavano in aria, armadietti del tutto. Sì, è volato di tutto, sono volati i tappeti, i scarpe, tutto quello che c'era fuori ha portato via. Non si erano mai viste cose così da queste cose? No, io sono vecchietto ma non l'ho mai vista. Mai vista, mai. Te ha avuto paura ieri sera? Parecchia paura anche perché è saltata pure la corrente al buio. A Fontaniva, dalle parti di via Risorgimento, il tornado ha scoperchiato questa vecchia barchessa. I pezzi del teto hanno colpito le case e le aziende vicine. Decine di piante hanno interrotto strade e la linea elettrica, costringendo per tutta la notte al lavoro vigili del fuoco e protezione civile. La conta dei danni è ancora presto per potersi esporre e il patrimonio pubblico, sappiamo, ci sono stati alberi, alcune coperture di edifici pubblici e l'illuminazione pubblica cartellonistica. Il problema poi saranno i privati perché con la grandinata dello scorso luglio alcuni si erano appena ripresi, appena rialzati e ieri è stata una botta forte per tante persone. E non è andata certo meglio a Carmignano di Brenta, dove il forte evento ha battuto alberi e pali della luce. Sono particolarmente colpite via Trento, via Brenta, via Montegrappe e via Camazzole con ingenti danni ai tetti delle case, le aziende agricole e anche con diversi alberi che si sono abbattuti all'interno del nostro territorio.